Conclude ufficialmente con la final conference il nostro progetto Life Cleavut. Cleavut significa lo studio del valore ambientale ecosistemico degli alberi all'interno delle città. Noi sappiamo che le città sono fortemente inquinate, caratterizzate da un fenomeno che si chiama l'isola di calore dovuto al riscaldamento, al traffico, alle polveri sottili e a tanto altro causato dall'uomo. Le piante possono essere dei benefici per l'uomo in termini di ombreggiamento, di sottrazioni di questi inquinanti, di emissioni di CO2. Questo progetto che ha avuto la durata dei tre anni un po' spalmati causa Covid si concluderà ad agosto. Oggi la conferenza è proprio il momento per fare il punto della situazione. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che il verde contribuisce fortemente nelle aree che sono dotate di verde tenuto bene, ben curato, ampio, grande nelle città e quindi è un ottimo contrasto ai cambiamenti climatici. Le città che sono dotate di più verde ovviamente stanno meglio in salute di quelle che non lo hanno e oltretutto le piante arbore essenzialmente gli alberi hanno performance diverse a seconda della specie. Quindi il cipresso in alcuni casi alcune caratteristiche migliori di altri, l'olivo un'altra pianta oltretutto anche questa molto interessante da questo punto di vista e anche la sensibilità dei cittadini a queste tematiche è stata un altro dei risultati ottenuti dal progetto. Si è visto che i giovani sono molto sensibili a queste tematiche, apprendono tramite i social, quindi come era logico pensare internet, facebook e tutti i social, le notizie sono pronti a mettere in campo dei comportamenti ecosostenibili. Quindi oggi presentiamo questi risultati alla cittadinanza, al mondo intero, siamo collegati in moltissimi paesi del mondo in remoto e molti saranno invece anche presenti qui in quest'aula. Le amministrazioni partecipavano a questo progetto, è talmente vero quello che mi sta chiedendo che le amministrazioni erano partner del progetto, la municipalità di Pelugia, la municipalità di Bologna, le città di Cascais in Portogallo e la città di Salonico in Grecia. Le amministrazioni hanno partecipato e hanno messo con noi appunto questi sistemi di monitoraggio del verde, di buone pratiche di gestione che sono state poi concretizzate in strategie del verde che entreranno nei famosi piani del verde che le città adottano e adotteranno nel futuro per gestire bene gli spazi pubblici. Naturalmente una parte la fa il pubblico e quindi questo è molto importante adottare dei piani del verde da parte dell'amministrazione, e una parte la fa il privato con le imprese private che anche queste sono coinvolte nel progetto. Le imprese private dovranno, speriamo, mettere a punto dei comportamenti compatibili con il verde e con l'ambiente, piantare nuovi alberi nelle loro zone, anche in considerazione che le imprese private, come tutti noi, producono emissioni e quindi compenseranno, speriamo attraverso comportamenti sono stati qui anche redatti dei patti di collaborazione con le imprese private e i migliori saranno annoverati con una specie di etichetta green, per cui anche in questo c'è un incentivo ad essere sempre più ecosostenibili nel futuro.